Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei migliori fumetti che ho letto nel 2021. Non sono tutti usciti nel 2021, ci sono un paio di eccezioni, però ho voluto selezionare per voi le letture che mi hanno conquistata nell'arco dell'ultimo anno. Non è una classifica e ovviamente questa lista rispecchia quelli che sono i miei gusti personali, quindi è soggettiva. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendomi, mettendo mi piace a questo video, commentando qua sotto, e poi in descrizione trovate i miei vari link da affiliate e la pagina Ko-fi attraverso cui potete offrirmi una simbolica tazza di te. Io vi ringrazio davvero di cuore. E partiamo subito con una storia bomba devastante, dal punto di vista emotivo sicuramente, ovvero My Broken Mariko. Questo è l'esordio di Waka Irako, è una storia che parla di amicizia, ma anche di sofferenza, di lutto, di dolore e di violenza. La protagonista della storia è una donna che un giorno, mentre impausa pranzo, apprende dal telegiornale della scomparsa della sua amica di infanzia. Mariko, infatti, dopo lunghi anni di sofferenza, soprattutto in famiglia, ha deciso di togliersi la vita. Shino, la nostra protagonista, decide a questo punto di prendere le ceneri di Mariko e affrontare un viaggio, non soltanto fisico, ma anche simbolico. Infatti, grazie a lei, ripercorriamo un po' la storia della loro amicizia. E soprattutto, la lunga storia di abusi e violenze che ha dovuto subire Mariko, da prima in famiglia, ma poi crescendo anche da parte dei vari partner che ha conosciuto e frequentato. Si tratta di una storia molto forte e impegnativa, almeno dal punto di vista emotivo, ma forse io l'ho apprezzata proprio per questo, perché ti arriva come un pugno nello stomaco. Non ti può lasciare indifferente questa storia e se da una parte abbiamo il racconto di una bellissima amicizia che fra alti e bassi è sopravvissuta a diversi eventi nel corso degli anni, dall'altra abbiamo una storia di violenza che purtroppo tantissime persone al giorno d'oggi affrontano quotidianamente. Il tema principale della storia, quindi, che viene affrontato è molto attuale e ho apprezzato molto il modo in cui l'autrice ha scelto di raccontarcelo senza peli sulla lingua. Altro titolo che mi ha conquistata, June. Di Kem Sook Jendry Kim, stessa autrice delle malerbe, torna di nuovo a raccontarci una storia vera, quella di June, ovvero un bambino autistico cresciuto in una famiglia coreana. Un bambino un po' diverso dai suoi coetanei, ma come sottolinea l'autrice alla fine del volume, tutti noi siamo un po' diversi. E questo non è sicuramente un demerito. È una storia, come vi dicevo, vera, si percepisce in ogni pagina. Io l'ho trovata molto interessante perché affronta un tema importante e sensibile in un contesto come quello coreano. Una cosa che secondo me colpisce subito è il rapporto fra la società e questa famiglia. Da una parte è come se questa famiglia fosse totalmente invisibile agli occhi della società. Non c'è un concreto aiuto psicologico, ma anche economico. Dall'altra parte c'è invece tantissima diffidenza e pregiudizio. Non soltanto nei confronti di questo bambino che più volte viene anche bullizzato a scuola, ma anche gli adulti alla fine non si rivelano sempre disponibili, aperti. Ed è una cosa che fa veramente male. Con questo fumetto l'autrice ha voluto proprio porre il focus sulla disabilità e su come vengono trattate le famiglie, almeno all'interno della società coreana. È secondo me una lettura che fa molto riflettere, perché per quanto sia distante da noi la cultura appunto coreana, ci sono secondo me diversi punti di incontro, anche perché alla fine siamo tutti esseri umani. Un'altra bellissima storia che ho letto nel corso del 2021 è stata Randagi di Keigo Shinzo, una miniserie composta da quattro volumi. In questo caso la protagonista, Shiori, è una ragazza molto giovane. A se non sbaglio sui 16 anni ed è scappata di casa. Non si sente per nulla a casa con la sua famiglia e per questo motivo si ritrova per strada. Non ha nessuno a cui appoggiarsi, per cui passa da uno sconosciuto all'altro che spesso contatta su internet e offre il proprio corpo in cambio di vitto alloggio. Si ritrova poi a lavorare in un centro massaggi, che in realtà è una copertura per delle attività non legali, che viene smascherata dal detective Yamada. Quest'uomo ormai vive praticamente soltanto per il lavoro. È l'unica sua valvola, diciamo, di sfogo ed è come se cercasse di affogare i propri rimorsi appunto lavorando e basta, trascurando tutto il resto. Questo perché purtroppo ha perso in un tragico incidente sua figlia. Quando Yamada incontra Shiori non può fare a meno di notare quanto la ragazza assomigli fisicamente a sua figlia. E per questo fra i due è come se scattasse qualcosa, perché Yamada non è riuscita a salvare sua figlia, ma vuole tentare di aiutare e salvare Shiori. Da una parte abbiamo appunto questa giovane ragazza che vive a una condizione disperata. Non sa cosa sia l'affetto, tantomeno l'affetto materno. Sembra non avere prospettive nonostante sia giovanissima. non ha una vera e propria istruzione perché ha abbandonato anche la scuola. Ha in realtà una passione che le è stata categoricamente vietata dalla madre. Quindi anche l'unica luce nella sua vita è stata bruscamente spenta. Questo passare da uno sconosciuto all'altro la porterà in serio pericolo. Due persone che anche agli occhi della società delle altre persone non vengono più di tanto aiutate o considerate. Una storia drammatica e commovente che è riuscita a conquistarmi perché è stata in grado di raccontare in maniera semplice ma molto diretta tante sfaccettature della vita quotidiana e dei temi che riguardano la società contemporanea. Metamorfosi di Kaori Tsurutani è di nuovo una miniserie composta da cinque volumi che racconta un'amicizia un po' particolare che nasce fra un'anziana signora e una giovane ragazza che frequenta il liceo. Come mai queste due persone molto diverse in due momenti della vita totalmente diversi finiscono per essere amiche? Beh, grazie alla lettura di manga. Poi slob. Fra i due nasce appunto questa bellissima amicizia che è un po' come un rapporto fra nipote e nonna per intenderci. Se inizialmente poi ci si focalizza magari esclusivamente sulla passione comune che è comunque qualcosa di estremamente prezioso perché penso che tutti noi abbiamo vissuto un momento in cui ci eravamo magari appassionati a qualcosa di particolare ma non avevamo qualcuno con cui condividere questa passione. Nel momento in cui invece abbiamo trovato qualcuno con cui condividere la gioia è stata sicuramente immensa. Quindi penso che sia un fumetto in cui tanti si possano rivedere al di là dei boys love o dei manga. E come vi dicevo andando avanti poi si vanno ad affrontare altri temi che riguardano la vita di tutti i giorni. Quindi è una storia quotidiana secondo me molto bella che fa riflettere soprattutto in una storia tenera. A me strappa sempre un sorriso e scalda il cuore. Non l'ho terminata ancora di leggere però sono a buon punto. Quattro volumi su cinque. Passiamo ora a un fumetto che non è uscito nel 2022 ma io l'ho letto durante quest'anno ed è stato veramente uno dei miei manga preferiti ovvero Kuro di Somato. Altra miniserie questa volta composta da tre volumi vede per protagonista una bambina e il suo gatto nero chiamato per l'appunto Kuro. La storia è ambientata in un mondo un po' particolare perché l'umanità è minacciata da dei mostri che non sono visibili a occhio umano a meno che uno non si faccia un vaccino e allora è possibile vedere questi mostri. La bambina purtroppo è rimasta orfana e l'incidente che ha coinvolto i suoi genitori è accaduto proprio nel momento in cui si sarebbe dovuta vaccinare per cui non ha mai fatto questo vaccino e quindi non è in grado di vedere i mostri non si rende conto del pericolo quindi che affronta quotidianamente. Le sue giornate però le affronta per lo più chiuse in casa con il suo gatto per l'appunto che in realtà ha qualcosa di strano perché non è un vero gatto. È una storia molto tenera di questo rapporto molto speciale. Io mi sono commassa tantissimo ma non perché questo fumetto faccia piangere o perché succeda qualcosa di particolarmente travolgente o drammatico ma perché mi sono rivista tanto. Lei alla fine è come migliore amico appunto il suo animale che per molti è solo un animale ma per lei è tutta la sua famiglia è tutto il suo mondo. Inoltre c'è una bellissima metafora all'interno di questo fumetto perché lei si ritrova a dover affrontare un lutto molto importante. Ha perso in giovanissima età entrambi i genitori e questa quindi è una storia di come si affronta o come si può affrontare insomma il lutto, la perdita. Ognuno di noi chiaramente lo affronta in maniera diversa però secondo me è interessante vedere questo, chiamiamolo, processo ma soprattutto crescita all'interno della storia. Non aspettatevi chissà che cosa a livello di azione, colpi di scena o altro è una storia la definirei abbastanza tranquilla sotto questo punto di vista ma proprio nella sua semplicità è stata in grado di conquistarmi. Il tratto poi dell'autore è pazzesco l'interno della casa i mobili gli arredi ma anche i vestiti sono estremamente curati hanno quest'aria gotica che io ho apprezzato particolarmente e i personaggi soprattutto quelli femminili sono raffigurati un po' come delle bambole ed è un aspetto secondo me interessante che poi ho amato anche nell'altro fumetto dello stesso autore che è uscito quest'anno. Non è uscito quest'anno ma non posso negare che questo sia un po' il fumetto per me del 2021 anche se non riuscirei mai a fare una vera e propria classifica perché tante storie mi sono piaciute tanto però questo in particolare ha anche un significato per me molto importante intanto ci stanno abbandonando i fumetti in libreria ottimo questo perché ho levato da lì il bellissimo cofanetto delle rose di Versailles di Ryoko Ikeda la storia che conosciamo magari tutti di Lady Oscar io ho visto il cartone da bambina ma a Spezzoni non avevo mai letto il manga e quindi sono stata felicissima di recuperare di colmare questa mia lacuna quest'anno penso che non abbia bisogno di grandissime presentazioni in questa storia ci troviamo in Francia poco prima dello scoppiare della rivoluzione si parla di Maria Antonietta della grandissima differenza fra classi delle difficoltà del popolo ma si parla anche di nuovo di sentimenti di intrighi di giochi di potere è una storia che ti affascina e ti rapisce sotto diversi punti di vista dall'ambientazione storica al trattare dei personaggi che bene o male conosciamo in una chiave tra virgolette più vicina a noi c'è sicuramente parte della storia degli eventi accaduti e della fiction che ti rapisce perché magari ci sono delle dinamiche sentimentali o familiari in cui ti puoi rivedere è un po' il fumetto anche del mai una gioia perché leggendo questo manga si soffre terribilmente per tanti amori non corrisposti per tanti amori proibiti per timing pessimi è una giostra di emozioni veramente un fumetto spettacolare ci sono poi delle serie che sono iniziate nel 2021 ma non ancora concluse che seguirò con piacere anche nel 2022 perché mi hanno particolarmente incuriosita partiamo con Beyond the Clouds di Nick qua ci troviamo in un mondo fra il fantasy e lo steampunk che richiama molto il mondo dello studio Ghibli e dei videogiochi come Final Fantasy o Kingdom Hearts il protagonista è un meccanico che un giorno trova una bambina alata che non ha più memoria inoltre le manca un'ala e quindi lui si offre di aiutarla un po' come fratello maggiore e di ripararle appunto l'ala che non funziona più in modo da permetterle di volare storia molto carina e tenera per ora siamo soltanto all'inizio dell'avventura ma fra i temi principali oltre all'amicizia la riscoperta di sé delle proprie radici c'è appunto questa bella avventura fantastica sono curiosa di vedere dove ci porterà e di che cos'altro parleremo nei prossimi volumi nessuna sorpresa nel vedere Geist Machine di LRNZ in questo video sapete è uno dei miei autori preferiti attendevo tantissimo un suo nuovo fumetto e l'ho adorato ci troviamo in un mondo post-apocalittico in un mondo in un'Italia post-apocalittica ormai invasa conquistata dalla natura l'umanità rimasta cerca di sopravvivere in particolare noi seguiamo il viaggio di due fratelli che anche in questo caso perdono la famiglia e devono trovare un modo per cavarsela non è soltanto una lotta alla sopravvivenza ma anche un viaggio secondo me molto interiore un po' la riscoperta anche dell'essere umano di che cosa significhi di che cosa ci identifica come tali soprattutto nel momento in cui si ritorna tra virgolette quasi in uno stato primordiale in cui la natura sta avendo un po' il sopravvento che cosa può tirar fuori da noi una situazione così estrema delle cose più negative come il tornare quasi ad uno stato animale per appunto sopravvivere quindi fare ogni cosa possibile anche se immorale diremmo noi per appunto continuare a vivere a quelle invece più pure e secondo me è un fumetto che può essere letto a più livelli dalla storia in sé al cogliere i vari riferimenti inseriti dall'autore stesso non soltanto a livello grafico ma proprio concettualmente sono molto curiosa di rileggerlo perché dopo aver partecipato a un paio di incontri con l'autore sono emersi dei temi degli aspetti del fumetto a cui magari non avevo fatto caso o che non conoscevo e quindi sarei curiosa di rileggere il fumetto sapendo tutte queste cose qua poi chiaramente non vedo l'ora di proseguire anche perché secondo me finisce proprio sul più bello Column Generic Romance di Jun Mayuzuki è un altro fumetto che sto seguendo con estrema curiosità ci troviamo in una città che può somigliare per certi versi a Hong Kong a un'aria estremamente nostalgica in cui il vecchio tra virgolette si scontra fortemente con le nuove tecnologie e noi seguiamo due persone comuni che alla fine lavorano in un'agenzia immobiliare sembrerebbe una storia classica sentimentale abbastanza quotidiana ma in realtà c'è un alone di mistero c'è qualcosa che non è del tutto spiegato c'è un'aria leggermente inquietante e delle cose che non riusciamo ancora a spiegarci almeno in questi primi due volumi usciti per cui io sono molto molto curiosa di proseguire come vi dicevo si tratta di una storia sentimentale ma non è così focalizzato sulla relazione sentimentale romantica ecco è più una storia appunto nostalgica di vita quotidiana in cui c'è qualcosa che secondo me deve ancora emergere che quindi non mi so spiegare molto bene ma che cattura vuoi andare avanti per capire come si sbroglierà come evolverà che cosa ci stanno nascondendo che cosa succederà lo stesso vale per Shadows House di Somato stesso autore di Curo che vi ho fatto vedere poco fa serie che io ho appunto amato anche in questo caso le atmosfere gotiche sono particolarmente intriganti e ci troviamo all'interno di una famiglia aristocratica i cui membri non hanno un volto in realtà sono delle vere e proprie ombre e per questo motivo al loro servizio hanno delle bambole viventi delle creature che devono fungere dal loro volto ufficiale diciamo così noi seguiamo in particolare il percorso di Emilico una giovane bambola vivente che non sa nulla del suo ruolo di questo mondo di come vanno le cose allo stesso tempo deve imparare a conoscere l'aristocratica che andrà poi a presentare insomma a rappresentare e si deve preparare in particolare al debutto in società questa è una storia che non mi ha colpita da subito devo dire il primo volume è carino niente di che con il secondo invece mi sono convinta a continuare la serie probabilmente per l'introduzione anche di altri personaggi le faccende si fanno insomma un po' più interessanti a mio parere molto intrigante come storia sono curiosa di vedere dove andrà a parare e poi l'oro Olympus questo è il primo volume nuova in città di Rachel Smith quest'opera nasce come webtoon ed è stata portata in cartaceo da J-pop proprio quest'anno questa è la vita delle divinità greche se fossero vissute diciamo ai giorni nostri una sorta di rivisitazione del mito greco in particolare seguiamo Persephone la dea della primavera che è sempre cresciuta lontana dall'Olimpo in mezzo ai mortali che si ritrova invece per la prima volta nell'Olimpo ed è catapultata in un mondo molto lontano da quella a cui è abituata si ritrova in mezzo a feste selvaggi ci sono intrighi giochi di potere ma anche sentimentali amori proibiti e così via e proprio durante una di queste feste conosce Ade è una storia molto accattivante a partire dai disegni dai colori i personaggi che appunto si rifanno al mito ma sono personaggi abbastanza credibili perché ci sono diciamo dei contorni attuali a partire che so dai cellulari o dai social il modo in cui sono vestiti è tutto molto contemporaneo e quindi ti pare di leggere una storia abbastanza vicina a te sicuramente il fatto che i personaggi non siano delle persone ma delle divinità rende il tutto assolutamente più intrigante a mio parere per questo sono molto molto curiosa di continuare a leggerlo sono curiosissima di sapere quali fumetti vi hanno accompagnato durante il 2021 quali vi sono piaciuti di più quindi se avete piacere scrivetemelo qua sotto nei commenti almeno diciamo la vostra top 3 fatemi sapere anche se avete letto alcuni dei titoli che ho citato in questo video e in particolare se anche voi continuerete a seguire le serie che appunto vi ho elencato spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao